Rosangela Macchia di Sant'Arsenio è stata premiata ieri a Roma tra i migliori laureati d'Italia, una professionalità del territorio a cui è stato riconosciuto l'impegno profuso e la cultura acquisita negli anni di studio e lavoro. Si è tenuta alla Camera dei Deputati nella nuova aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari la cerimonia di premiazione per giovani laureati meritevoli che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione Italia-USA che ogni anno riserva ai neolaureati premiati la partecipazione gratuita ad un Master Online in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy. Rosangela Macchia di Sant'Arsenio di Salerno Rosangela, 27 anni, si è laureata all'Università degli Studi di Salerno in Economia Aziendale curriculum consulenza e management azientale. Con 110 Lode lavora ora per Agic Technology che è uno dei principali partner di Microsoft Italia e lei si sta occupando dello sviluppo di un nuovo software per la contabilità delle aziende. È stato per me un onore essere stata riconosciuta come una degli studenti più meritevoli d'Italia, dichiara Torosangela. La soddisfazione è avvalorata dall'aver portato il nome dell'Università di Salerno e del mio Paese Sant'Arsenio all'interno della Camera dei Deputati. La premiazione è stata emozionante e il Master è un'occasione formativa importante considerate le nuove frontiere del commercio internazionale e soprattutto un'opportunità per la tutela del Made in Italy. Ringrazio il Centro Studi Comunicare l'Impresa e la Fondazione Italia USA per l'attenzione rivolta a noi studenti. Il Master in Global Marketing e Made in Italy a cui parteciperà vanta la collaborazione di docenti internazionali e università estere. Intanto ieri Rosangela la presenza dei vertici della Fondazione di esponenti del mondo delle imprese giornaliste parlamentari è stata premiata con un attestato di professionista accreditato presso la Fondazione Italia USA. Nell'ambito della propria attività istituzionale la Fondazione oltre ad accompagnare con azioni di sostegno l'internazionalizzazione di numerose aziende rappresentative del Made in Italy favorisce l'insedimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera di giovani laureati che possono contribuire con le proprie professionalità alla diffusione della cultura di impresa nell'internazionalizzazione verso gli Stati Uniti e quindi questa una grande opportunità per la giovane studentessa e lavoratrice del Vallo di Diano.